Assessore, il Comune di Calimera è particolarmente attento a quelle che sono le esigenze dei commercianti in un momento di pandemia. Qual è il vostro lavoro amministrativo? Dal primo momento abbiamo rivolto questa attenzione, la nostra attenzione, verso le attività commerciali, che come sapete sono tutte in sofferenza, soprattutto in questo periodo dovuto al lockdown. E quindi noi come amministrazione abbiamo fatto questa misura, abbiamo stanziato 25.000 euro, i fondi proprio del Comune, per dare un segnale di ripresa e un segnale forte verso queste attività che da tempo ormai soffrono questo periodo di chiusura che continua purtroppo a protrarsi. Speriamo che presto possano tornare tutti nella normalità, perché è quello che ci auguriamo. Comunque anche per quest'anno abbiamo messo questi fondi in bilancio in modo tale da poter supportare queste aziende che ancora vivono questo momento un po' particolare per tutti. Assessore, il Comune di Lecce ha aumentato il canone unico. Voi in realtà a Calimera avete preso altre decisioni? Esatto, noi abbiamo già approvato questo regolamento del canone unico che entrava in vigore dall'1.1.2021. A gennaio abbiamo fatto una misura provvisoria e adesso, prima del bilancio, abbiamo già approvato il canone unico dove va a includere vari tributi e diventa una tassa, non più una vera e propria tassa, ma un canone patrimoniale. Abbiamo deciso, data la situazione attuale, di non aumentare assolutamente i tributi, di lasciare tutto invariato. Anzi, sarebbe bello anche andare ad abbassare un po' queste tasse, questo canone, per dare un po' di respiro a tutte le attività. Al momento abbiamo lasciato tutto invariato sulle tariffe. Speriamo che ci sia la possibilità anche di fare qualcosa in più per il futuro.